La colonna dell'antico cimitero di Castello di Arzignano è stata restaurata grazie a un intervento deciso dall'amministrazione comunale. L'antico manufatto, collocato in prossimità di Porta Cisalpina in Piazzale della Vittoria, è stato benedetto durante la processione di Santo Erosio allo scorso primo giugno 2018 da Don Luigi Fontana e alla presenza del consigliere delegato al decoro urbano Carmelo Bordin. La colonna in pietra tenera risale presumibilmente alla fine del 1400. È alta 376 centimetri e raggiunge i 4 metri e mezzo con la croce di ferro posizionata alla sua sommità. Inizialmente era posizionata nell'antico Campo Santo, nelle adiacenze del complesso della chiesa e del convento francescano di Santa Maria delle Grazie. Il cimitero fu abbandonato intorno al 1850 e la colonna venne rimossa e collocata in un luogo visibile, ma protetto non lontano dalla sua collocazione originaria. È precisamente nel piccolo appezzamento di terreno demaniale e prospicente la strada. A destra entrando alla porta Cisalpina dove si trova ancora oggi. Un'area, quella del castello, dichiarata di notevole interesse pubblico e quindi a vincolo paesagistico già con un decreto ministeriale del 22 dicembre 1965. La colonna versava in evidente stato di degrado degli elementi lapidei e metallici. Il fusto della colonna in particolare presentava fenomeni di decoesione e disgregazione della pietra con consistenti fratture e fessurazioni. Le opere di restauro si sono divise in due fasi, la prima di pulizia e la seconda di consolidamento strutturale. Un certosino lavoro con pulitura secco di tutte le superfici con pennelli, aspiratori e spazzolini a setole morbide a cui è seguita la rimozione delle stucature dovute ad interventi precedenti, l'ultimo risalente a circa 30 anni fa. Successivamente è stato eseguito un trattamento di disinfezione degli attacchi micro e macro vegetativi, trattamento della croce metallica mediante sabbiatura, iniezione manuale di cementi demineralizzati, consolidamento strutturale con applicazione di silicato di etile allo scopo di rafforzare la colonna. Infine, il rifacimento delle stucature con impasto di polveri di pietra, calce idraulica, desalinizzata e resina acrilica, ritocchi cromatici delle stucature d'acquerello con pigmenti naturali e protezione finale con idropellente dell'acqua. La croce di ferro è stata protetta con olio di lino, trementina veneto e nero fumo.